Ciao cari amici, un caso molto interessante è venuto ieri nella direzione di Kherson, voi sapete che in quel luogo le forze armate ucraine stanno cercando ogni notte, ogni giorno, in qualche maniera dimostrare all'Occidente che loro sono capaci di avere iniziativa tattica e quindi cercano di mandare le loro forze speciali, le loro truppe attraverso il fiume, per prendere posizioni russe o tentare prendere, questi tentativi finiscono male, i russi li massacrano, per adesso non sono riusciti a sbarcare, almeno negli ultimi mesi non sono riusciti a fare uno sbarco efficace e una delle zone dove vorrebbero svolgere le attività di sabotaggio, di azioni belliche gli ucraini e la Tendrosk Kassa è un posto molto importante dal punto di vista strategico che è adesso controllato dai russi e gli ucraini vorrebbero in tutti i modi essere presenti in questo luogo. Qualche giorno fa io ho condiviso con voi le notizie durante l'approfondimento giornaliero dalla zona dell'operazione militare speciale, in questo video vi ho raccontato che i russi hanno fondato una piccola nave ucraina sul fiume che veniva usata per trasportare i sabotatori che avrebbero dovuto sbarcare proprio nel territorio di Tendrosk Kassa. Mentre ieri è successo un caso molto importante, molto significativo perché un gruppo dei sabotatori ucraini, si tratta di riparto d'elite di ucraini è stato firmato da dipendenti del FSB russo insieme con il Ministero della Difesa, della Federazione Russa, con l'esercito, con la GRU, con i servizi segreti militari russi hanno lavorato in quella direzione e hanno in pratica distrutto un riparto d'elite dei sabotatori ucraini che però agivano, cari amici, ed è molto interessante, agivano seguendo un piano strutturato dagli inglesi. La forza da sbarco ucraina è stata distrutta completamente e un soldato del 73esimo centro navale delle forze per operazione speciale delle forze armate ucraine che si chiama Yevgeny Gorin, questo ragazzo, è stato catturato vivo. Questo prigioniero ha fornito informazioni sull'addestramento al sabotaggio che il suo gruppo ha avuto in una base di forze speciali SAS in Gran Bretagna e hanno preparato specialisti inglesi per sabotaggio navale, per attacco alle strutture russe sul territorio russo, loro studiavano le mappe russe, avevano tutti i scenari che loro svolgevano durante addestramento, rappresentavano, cari amici, le situazioni reali ed erano strutturate sulle operazioni nelle zone reali controllate dai russi. Quindi in Gran Bretagna i militari britannici preparavano i riparti speciali ucraini per sabotaggio sul territorio russo, sul territorio controllato dai russi. E questa è ovviamente l'ennesima conferma di come l'Occidente, di come le forze armate occidentali stanno preparando ormai da anni, perché non è una novità. Questa cosa, cari amici, dura dal 1994. A partire del 1994, quando la NATO è entrata a gamba tesa in Ucraina e sono iniziate tutte queste operazioni congiunte, le esercitazioni collettive, la NATO non ha fatto altro che preparare gli ucraini alla guerra contro la Russia. E quindi il prigioniero Evgeny Gorin, prigioniero ucraino, delle forze speciali ucraine, ha parlato dello sviluppo da parte di istruttori britannici e dell'esecuzione di sabotaggi sulla piattaforma di perforazione MSP-17, tra l'altro, da parte di istruttori britannici e delle forze speciali dell'esercito ucraino, perché loro stavano preparando questa gente per impossessarsi dei mezzi tecnici e di scorta dei droni russi. Quindi in quella situazione possiamo tranquillamente dire che il soldato Gorin è stato una bella conquista per i russi, hanno sicuramente portato a casa tantissime informazioni utili e hanno dimostrato per l'ennesima volta ai britannici che le loro forze speciali, che siano SAS, che siano altri forze speciali occidentali come i Navy SEALS, l'altro giorno c'è stato distrutto un gruppo simile sempre in quella direzione, però più vicino a Krynki, che volevano sbarcare e che erano tutti addestrati dai Navy SEALS statunitensi, i russi li hanno ammazzati praticamente tutti, solo quattro sono rimasti vivi, gravemente feriti e sono stati presi prigionieri dai russi. Quindi tutto questo addestramento occidentale agli ucraini a quanto pare non ha fatto bene, non ha temprato, diciamo, questi uomini, non ha temprato questi riparti speciali, non ha dato a loro nessun tipo di vantaggio sui militari russi. Io sul mio canale privato Telegram ho condiviso un video dove c'è l'intervista a questo soldato, quindi chi pensa che si tratta di una storia inventata e che non è niente vero, che è tutta questa propaganda di Putin, perché so che diversi personaggi qua su YouTube guardano a canali dei vari cretini che raccontano le bagianate e poi attaccano me dicendo che io condivido informazioni false. Ecco, io sul mio canale privato Telegram ho condiviso il video, ho condiviso il video ripreso dal drone dove si vede l'imbarcazione, dove si vedono i militari uccisi, dove si vedono, diciamo, tutta l'operazione contro questi personaggi e poi dove si vede il militare ucraino catturato che racconta in pratica della sua esperienza e racconta di come i struttori britannici preparavano per loro addirittura i piani dell'operazione. Quindi, cari amici, qua si tratta di pianificazione tattica che viene fatta dai specialisti occidentali. Diciamo, i comandanti ucraini non fanno la pianificazione tattica, lo fanno i britannici per conto loro, ovviamente utilizzando l'intelligence britannica, utilizzando i mezzi che vengono di solito applicati quando si fa la guerra, quindi i satelliti, i droni, tutti i tipi di informazioni. E questo ci spiega che questa è una guerra tra la Russia e l'Occidente. Ormai gli ucraini è semplicemente uno strumento, perché non sono in grado nemmeno di pianificare un'operazione. In questo senso si può dire che la Gran Britannia utilizza gli ucraini come un'arma, punto e basta. Questa è una cosa importantissima da sapere, da prendere in considerazione quando prossima volta qualcuno vi racconterà che questa è una guerra tra la Russia e Ucraina, potete dire tranquillamente che non è così. Questa è una guerra tra l'Occidente e la Russia e l'Ucraina. In questa guerra viene utilizzata semplicemente come il territorio, come la zona di scontro, un luogo da distruggere completamente e i cittadini vengono utilizzati come una biomassa che deve essere bruciata, completamente distrutta in una guerra contro i russi. Questa è la realtà dei fatti. Carissimi, io con questo vorrei salutarvi, come sempre vi invito di approfondire queste e altre notizie sul mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube io vi invito come sempre di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Se vi interessa la guerra in Ucraina, se volete sapere chi, come, quando e perché ho organizzato questa carneficina, vi invito di leggere il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle, lo troverete in tutte le librerie d'Italia. Approfondite la lettura e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per il vostro sostegno, per ogni vostra donazione, per condivisione delle vostre opinioni. Per me tutto questo è molto prezioso e importante. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.